ah no adesso? fermate, 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 è pure un maschio, questa è una femmina perché non c'è il pisello, vedi, poco ce n'è, è due maschili, vedi quanto c'è la femmina, dovrebbe essere un maschetto, vedi la mamma come è, questa si vede la differenza, ce n'ha meno pisella, lo vedi, questa è la mamma, vedi la mamma, qui è il prima mamma che è brava, vedi guarda, vedi quanto è contenta lei che gli fa, io guardo, metto per te, metto per te, metto per te, metto per te, con bello, va, guarda un po', vedi così cosa vedi, non vedi la mamma, è qui la facciola, non ce l'ha, ce l'hai, 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 metto per te, Ancora, guarda, guarda, mica cammino del uffo, che stia. Però lo vuole dedicare davanti alla faccia. Perché la gambe dietro non lo muove? Mi dico, mi dico, mi dico, per ridere. Molto. Molto.